Di notte sono gli Arsenio Lupenco e i tacchi a spillo Ragazze potete venire? Sì Il Robin Hood col rossetto Mi è scappata Ma come è scappata? Mi è scappata Piove Come piove? Ma di giorno i soliti problemi Ah no, vuoi scarpe da basket? Le ho levate Compreso lui Sono lo chef che cercava Nel mio ristorante la pastella riposa due ore, punto Il buon cibo, a volte pure erotismo Wow Su Rai 1 le avventure di una Eva Kent un po' particolare Che avete combinato? Perché avete l'aria pericchiera Prossimamente la ladra